Il primo elemento è il terminale per gli ordini, il secondo elemento sono i guanti, il terzo elemento è il suono della cassa. Sono Antonella addetta al supermercato. Il terminale per gli ordini serve per fare gli ordini all'interno del supermercato e accompagna per il 90% le mie giornate perché ogni giorno c'è al minimo un ordine da fare con questa macchina. I guanti sono importanti come oggetto perché all'interno del nostro lavoro del supermercato diciamo che li indossiamo per gran parte della giornata, da quando stiamo al banco a servire il pane piuttosto che la pasticceria ai clienti al momento in cui viene svolto il rifornimento e quindi cambia tipo di guanto ma sempre di tale si tratta. Quindi è come un altro, fa parte della nostra divisa ecco. Il terzo oggetto è il suono della cassa perché è un suono che si ripete costantemente durante tutta la giornata perché chiaramente ogni qualvolta che un cliente va alla cassa ma sistematicamente si sente il bip che ci accompagna durante tutte le vostre ore lavorative. Il primo consiglio che mi sento di dare a chi desidera provare a fare questo lavoro è quello di avere un grande spirito di collaborazione e di adattamento perché comunque è un lavoro che è faticoso però diventa piacevole e per renderlo piacevole ci vuole veramente poco, basta trovare sintonia con i propri colleghi e i responsabili chiaramente anche. È importante capire che qui in questo luogo abbiamo una tipologia di cliente particolare diversa da quello che ognuno di noi trova all'esterno perché comunque si tratta di persone che sono in ferie, in vacanza quindi a maggior ragione è ancora più doveroso essere educati e disponibili verso il cliente. Le mie mansioni spaziano a 360 gradi dal banco, la cassa, il rifornimento, gli ordini l'esperienza che ti regala un lavoro come il mio fatto in una struttura come questa ti dà la possibilità di andare in qualsiasi altro supermercato e saper lavorare indipendentemente dal metodo di lavoro che ognuno chiaramente ha cioè ogni direttore, ogni struttura ha il proprio di metodo però la preparazione che ho avuto qui e che ho qui difficilmente la trovi da altre parti. Grazie per la visione!